Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti. È un ritorno chiaramente in questa stessa aula, la quale ci siamo già visti l'anno scorso. Credo che a quello che ha detto il Presidente poco vada aggiunto, se non un fatto importante, che è quello che finalmente, e io dico anche grazie sicuramente anche a Federanziani, si parla di più di aderenza. Il concetto di aderenza è un concetto che c'è chiaramente da sempre, è ovvio. Però non è da molto che ci si è resi effettivamente conto di quale sia l'impatto, perché non è da molto che abbiamo i dati, questo è il punto fondamentale. E forse la cosa che mi permetto di aggiungere è che, proprio grazie alla raccolta dei dati, oggi, e sono big data questi, perché sono dati grandi, numeri grandi, in Italia ogni anno noi raccogliamo all'incirca, più o meno, tra i 7 e gli 800 milioni di ricette, che sono in un database, naturalmente, e quindi abbiamo adesso alcuni miliardi di ricette nel database, individuali, che possono essere poi naturalmente incrociate con altri dati, man mano che il garante della privacy ci dà i permessi, e questo porta ad avere dei dati solidi, perché sono dati di milioni di persone, che ci permettono anche di capire alcune cose, alcune cose molto importanti, alcune cose che riguardano un concetto che naturalmente non è solo un concetto di aderenza, ma che è un concetto di congruità prescrittiva, perché non è sufficiente essere aderenti, anzi, è peggio essere aderenti se hai avuto una cura sbagliata, come disse giustamente Giacomo. Quindi l'aderenza è parte del sistema, chiaramente. Ma la cosa importante, l'unica cosa che voglio dire è questa, che questo concetto è un concetto che è, se vogliamo, multitask, multidisciplinare, e che riguarda tutti noi. Riguarda tutti noi perché riguarda tutta, chiamiamola filiera, è una filiera allora, riguarda innanzitutto il paziente, questo è naturale, e quindi riguarda una parola importante che si chiama patient empowerment, il paziente che si impadronisce di se stesso, di ciò che è la sua malattia eventuale, di ciò che è comunque il suo concetto di salute, quindi ha a che vedere con quello che si chiama health literacy, c'è la letteratura della salute, che in Europa è meno del 12%, quindi la popolazione europea, e noi siamo dentro come italiani esattamente nelle statistiche, bene, non ha cognizione di quello che è la propria salute. e questo è un altro concetto, che si va naturalmente a sposare bene con quello che è l'educazione sanitaria, che è un'altra cosa naturalmente, perché la literacy non è solo l'educazione sanitaria, ma la literacy è anche ciò che uno fa naturalmente spontaneamente. E questo viene a toccare pesantemente un altro argomento, che è quello del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ma soprattutto dell'Istruzione, cioè a livello scolastico, a livello della scuola dell'obbligo, il tipo di educazione che noi diamo, che è da lì che poi il cittadino naturalmente sorge e incomincia a farsi una coscienza, è assolutamente insufficiente. Tant'è vero che il giorno 31, settimana prossima, ci sarà una riunione apposita con gli addetti del Ministero del MIUR e salute per vedere, va bene, che cos'è che si può fare da questo punto di vista. E poi c'è tutto, c'è naturalmente, tutti i medici, tutti noi, questo è chiaro, ma c'è la farmacia e comunque la vogliate chiamare, territoriale, altro che sia, ma la farmacia ha un ruolo fondamentale, ma l'industria ha un ruolo fondamentale. Io ho sempre detto che, secondo me, e qui parlo con il cappello di Haif, uno dei premi maggiori che potremmo dare all'industria è quello se l'industria riesce a far sì che il farmaco sia più aderente, cioè che in realtà il paziente possa essere più aderente al farmaco che prende, che assume. e allora in tutto questo concetto è subentrato un fattore scatenante che è quello che ha permesso in Europa di partire con l'idea dell'aderenza e che è quello economico. E' sempre incredibile queste cose, no? Cioè è sempre l'economia che comunque, invece di essere un concetto etico proprio va bene, bisogna curarsi bene, quindi bisogna avere i percorsi prescrittivi, bisogna avere i percorsi diagnostici, bisogna avere tutto quello che sia va bene per il paziente e bisogna dargli il farmaco e bisogna vigilare che questo farmaco venga assunto, ma no, il vero problema è quello, che chi non lo piglia poi va a finire in ospedale, ha l'infarto, ha qualcosa, ha quell'altro, allora costa di più. E allora siccome è un costo aggiuntivo, bene, allora cerchiamo di vedere che cos'è che possiamo fare. Signore, io credo che abbiamo un grosso problema, va bene, il problema è un problema culturale innanzitutto, un problema etico come secondo posto, e come terza cosa, va bene, e io credo che sia un dovere il nostro quindi di fare questo. Quindi io ringrazio molto Federanziani, va bene, per avere preso questa iniziativa e credo che, niente, andiamo avanti così, mettiamocela tutta, non è che un gruppo di cento persone riesca, però insomma, vabbè, Garibaldi così erano mille, va bene, hanno fatto un casino che, sapete cos'è che è successo, non è bene o non è male. Quindi voglio dire, magari in cento si riesce a fare qualcosa. Sergio, ma valgono dieci? Come? Valgono dieci. E quindi sono mille, benissimo, ecco, ecco, non mettetevi la camicia, va bene.